ciao ragazzi buon pomeriggio buongiorno diciamo buon pomeriggio a tutti quanti eccoci tornati con un nuovo video ovviamente vigilia di napoli rangers auto version perché questa qua è la versione ovviamente auto perché facciamo il video dall'auto e purtroppo non ho avuto tempo stamattina io con il mio solito giornale ovviamente quando sto in macchina e ragazzi allora ovviamente si parla tanto sui giornali sempre della partita con la roma tanti tante pagine di osman dei record del napoli tutta una serie di cose giusto giusto ci sta però io volevo trovare qualcosa un po più sostanzioso ovviamente perché domani sì il napoli scende in campo di nuovo alle ore 21 per la champions league quinta giornata napoli rangers non è una partita facile però non dovrebbe essere nemmeno troppo difficile e ovviamente il napoli va verso un mini turnover perché per quello che ho avuto modo di da quello che ho avuto modo di leggere io ho iniziato a leggere già da ieri ma ieri c'era ancora poca roba e tanta confusione ovviamente dal punto di vista delle formazioni ora pare che le cose siano leggermente più chiare il napoli ovviamente sempre formazione ufficiosa formazione ufficiosa perché poi domani diciamo in mattinata primo pomeriggio vedremo quella la ufficiale o comunque ci incammineremo verso il vedere quella la poi che sarà quella ufficiale ad ora diciamo che la formazione che dovrebbe che dovrebbe scendere in campo domani dovrebbe essere ovviamente con meretti in porta poi ci dovrebbe essere kim e ostigard centrali sui lati ci dovrebbero essere di lorenzo e mario rui ovviamente mario rui anche che ritorna al posto di olivera per dargli il cambio e forse appunto vedremo ostigard in campo io lo spero sinceramente ma non per qualcosa contro hua jesus che sta giocando benissimo ma più che altro per vedere anche ostigard in centro campo mediana ci dovrebbero essere sempre dombele con lobotka quindi un'altra pausa per anch'essa che forse rientra col sassuolo sabato vediamo vediamo che succede e avanti a loro incredibile ma vero dovrebbe giocare elmas quindi questo questa sorta di triangolo con dombele lobotka ed elmas chissà chissà e poi avanti dovrebbero giocare dal primo minuto ovviamente diciamo quelli che o non hanno giocato o hanno giocato poco cioè politano al suo solito posto raspadori e simeone quindi e soprattutto raspadori e simeone insieme dal primo minuto ovviamente questa ripeto è l'ultima formazione che ho letto proprio mezz'ora fa quindi quella la più recente possibile ad ora io vi dico la verità da una parte ci sta fare un mini turnover perché ci sono alcuni giocatori che hanno bisogno un attimo di rifiatare dato che comunque da ora in realtà già è iniziato il percorso ma fino a due tre settimane a questa parte ci saranno tante partite tutte insieme quindi ci sarà bisogno di tante energie di tanta forza quindi è giusto in partite come quella di domani sera fare un mini turnover anche se ragazzi si deve vincere è obbligatorio vincere a prescindere siamo qualificati già sì ma io voglio vincere lo stesso voglio fare lo stesso tanti gol e non ne voglio sapere quindi vediamo vediamo che cosa succederà io rispetto a questa formazione con letto lo sapete solo elmas non lo so ho sempre tanti dubbi su questo ragazzo preferisco mille volte gaetano o altri comunque ovviamente fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa formazione ve la ripeto se dovesse essere confermato ovviamente questa cioè meret di lorenzo maierui kim ostigard lobotka dombele elmas politano raspadori e simeone fateci sapere nei commenti appunto se siete d'accordo con questa eventuale formazione per domani sera mi raccomando lasciate like iscrivetevi soprattutto al canale grazie ovviamente a tutti quelli che ci stanno supportando perché veramente ci state dando una grande mano ma continuiamo così perché vorremmo provare ad arrivare a 2000 iscritti nel breve termine senza arrivare per forza a natale però secondo me ce la possiamo fare perché stiamo andando veramente come le locomotive quindi ce la possiamo fare noi da questa parte siamo contenti nonostante tutti diciamo i vari problemi a destra a sinistra lavoro qua là le nottate a passare le nottate passate per le programmazioni settimanali quindi lasciate like iscrizione al canale e ovviamente ci vediamo con un prossimo video ciao ragazzi